Io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B? La Biro? La Biro? Quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece uso la penna assinografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecoli. Ma che vuoi accendere? Io sto parlando della B-Zona! Stiamo attenti!